partiti cavalli dell'ultima corsa buona partenza per isole maldive che non vuole farsela davanti lascia a strada dunque a rapido domingo e anche a drillbuster che in pochi metri prende anche la leadership della competizione buona partenza anche per l'andora poi a seguire troviamo maialza con cerenova o trecciose che roval che ha recuperato dopo una partenza lenta fase di studio andatura non esagerata drillbuster l'andora maialza rapido domingo isole maldive questa la prima linea a precedere il tabal con la giuba rossa che è anche il favorito nella cui a schiena agisce cerenova poi o trecciose e ancora a chiudere il gruppo che roval siamo in metà curva con drillbuster in leggero vantaggio in questo momento nei confronti il rapido domingo poi isole maldive all'interno c'è l'andora poi maialza e il tabal che invece segue corsie un pochino più esterne in scia proprio di isole maldive siamo già addirittura d'arrivo drillbuster rapido domingo isole maldive questo è il terzetto per obliquo con all'interno l'andora che ci prova stessa cosa o trecciose dal centro la pista ci prova anche il tabal quattro cavalli virtualmente su di una linea con rapido domingo in leggero vantaggio attaccato da isole maldive o trecciose che trova un buon barco dall'interno ma il tabal all'esterno di tutti produce lo scatto a 200 metri dal traguardo o trecciose attaccato da rapido domingo e da il tabal questi tre cavalli che si staccano in lotta con rapido domingo che passa e chiude la partita nei confronti di el tabal e per il terzo otrocciose doppietta per salvatore basile che dunque porta a casa la vittoria con rapido domingo alla sua seconda vittoria in carriera il figlio di el zam il training è quello di mario giorgi i colori di giuseppe aprovidolo a secondo posto il tabal per il terzo otrocciose anche da capanella è tutto e per gli amici della regia è tutto grazie